Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono Razor e benvenuti in questo nuovissimo video sui minigame di Minecraft Oggi siamo qui in compagnia di iTechnoGamer Ok, molto molto bene Comunque iniziamo subito con il primissimo minigame, ovvero Micro Battle Spiega un po' in che cosa consiste Allora, siamo 4 team posti tutti su 4 territori diversi Comunque appena finisce il tempo avrete 10-20 secondi per poter prendere i blocchi come stiamo facendo io in Razor Per poter o farci il ponte oppure farci una torretta per salire in questa struttura Che è veramente comoda per gli arcieri Esattamente, comunque l'unica pecca è che appunto quando si abbassano i vetri lì che c'erano qui nella lava Lagga un pochettino, comunque non è una cosa molto grave E niente, io direi di salire su, tu dove sei? Vai, io sono già sopra Ok, allora io arrivo un attimo e iniziamo subito con l'arco Poi man mano scenderemo e faremo il culetto agli altri Se vedi bene, molta gente ha quittato Molta gente ha quittato e quindi siamo 3 verdi, 1 giallo e 2 blu Ok, molto molto bene Cioè, aspetta, aspetta, forse potremmo vincerla Il giallo è qua da solo Giovanni? No, il giallo Il giallo Ah, il giallo, ok Aspetta, attento, attento, attento E babbo E che, guarda che c'è danno da caduta poi eh E appunto Dobbiamo stare attenti Madò, sto giallo qua Ok, è morto da solo, è morto Da solo? Sì Ma questa partita è un po' troll, secondo me Noi non stiamo facendo lì, la gente muore Ok, 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 molto bene Vai, vai Eh Dobbiamo fare in fretta Perché un'altra particolarità di questo Comunque, dai, io scendo, io scendo Eh, ok, scendo anch'io Cavolo, cavolo Vedete, vedete Ecco, un'altra particolarità di questo minigame E che tipo, i blocchi dopo un certo tempo Cadono da soli E quindi l'aria per lottare è sempre più piccola E questo è veramente una bella cosa Ok, vieni a combattere Andiamo eh Ci sei? Ci sei? Contro il blu eh? Contro il blu Oh, arco, arco, io c'ho l'arco Via Ok, ok, ok Ok, ok, ho sprecato, ho sprecato le frecce Ok, aia, aia, aia Eh no, eh no, questo qua c'è Questo qua c'è, non può prenderci da lì eh Ok, sta arrivando il nostro compagno Quindi, adesso Oh, come fa? Non lo so, hai partito da solo Vai, l'ho preso ancora? Ci sei? Vai, 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 vai Oh, sì, sì Abbiamo vinto, abbiamo vinto Mamma mia che pro Mamma mia che pro Siamo dei pro ragazzi Proprio Baci, baci, baci Baci Ma subito Cioè, chi è che ha finito una partita così veloce? Appunto Comunque passiamo, ragazzi Al prossimo minigame di oggi Esattamente Ok, bene Siamo nella seconda partita Ovvero nel secondo minigame Chiamato Ship Quest Infatti Ragazzi Ragazzi Chi è che Chi è che non lo conosce? Si tratta ancora di quattro team E lottare per avere le pecore Ok, esatto Allora Pecora, 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 pecora È bellissimo Perché non le prende? Perché non le prende? Sì, l'ha presa, l'ha presa No, no, no È proprio Ok, stiamo vincendo Ma veramente No, me l'ha fattuta Eccola là Aiuto Ti proteggo, ti proteggo Vai, vai, vai Ma cosa c'ha quello in mano? Eh, ma è un cubo viola e blu Appunto Non dà senso Ti è caduta, ti è caduta Ma mi cade ogni due secondi Wow, 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 wow Signorina Che è sta ragazza qua? Che è sta ragazza qua? Non lo so Aspetta, che è morto Comunque ne abbiamo una noi Ok Due, due, due Ragazzi Grandissimo Aspetta, tu No, però non ha senso che siamo solo in due squadra Serio? Eh, sì Sì Siamo due squadra e riusciamo a Mamma mia E siamo in seconda posizione Quindi, GG Aspetta un attimo Tieni sempre d'occhio la nostra base Perché potrebbe arrivare qualcuno, eh Eh, ho capito Ma noi dobbiamo stare in difensiva adesso Eh, aspetta Vado a prendere Ecco Vado a prendere queste Ci siamo, eh Ci siamo, ci siamo Vai, 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 vai Vai, vai Contro la ragazzina qua Via, via No, vaffanculo Vai, ti salvo Tu prendila, tu prendila Prendila, prendila Ok, lo vado a prendere Aspetta Oh, oh, prendila Dio, ma Ma questo cinese Oh Via, via, via No No Via, 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 via L'ammazzo, l'ammazzo L'ammazzo, ammazziamolo Via, prendi, prendi Prendi via Scappo Ma dai No, è impossibile Ma perché cadono oggi? Aspetta, ma noi siamo verdi No, siamo gialli Siamo gialli Ok, perché no Non mi ricordavo Aspetta, sta arrivando una di te Attento, attento No, 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 no Attento Aiuto Porto Ti salvo, ti salvo Mi ha ammazzato Manca me Ma No No, ma ce l'ho fottute Ma noi siamo anche fortunati Perché di solito Ce l'ho fottute Nelle precedenti Eh, incontravamo I cheater Ma questo ce l'ha prese Oh, vai a prenderla Io prendo questa qui Allo spawn Ci sono, eh Ci sono Ci sta il nero Che mi insegue No, no, no Ma perché mi cade? No, ragazzi Veramente ShipQuest Mi sa che l'hanno peggiorato Il plugin del ShipQuest Sarà, sai cosa Secondo me, Razor Sarà per la 1.8 Che non è adesso Ok, io ne ho una comunque Ne ho portata una Serio? Sì Eh, siamo in ultima posizione Comunque Oh, siamo in due Siamo in due No, sono in quattro Ma due, i rossi Non hanno quattro Ma questo c'è un cubo Ma Oh Oh, aiuto, aiuto Aiuto Niente, non possiamo fare niente Siamo in due, Razor Siamo in due In due Sai cosa che È qualcosa veramente di Vabbè, comunque siamo Oh, prendiamo queste Andiamo ucciderle Io vado dai verti sempre Non mi interessa Grande, grande, grande Il nero, il nero qua Oh, via, via, via Via, via, via No che abbia qualcosa contro i neri Però, eh, use cifre Scusate Quante ne ho io? Non lo so, io ne ho una Io ne ho una Io ne ho una è abbastanza pesante Non ho ancora Ne ho due No, no, no Non ci Ok, io ne ho messa una Cavolo Ne avevo due Ma perché questo qua c'è una spada in ferro? Perché questo qua c'è una spada in ferro? Ma perché questo è uno sciopone Ma cosa vuoi fare? Ammassalo, ammassalo Ammassalo, ammassalo Pirletta Adesso muori Ecco, molto, molto bene Ok, io sto qua in difesa Vai a prendere qualcosa Perché se no ce le fottono subito Adesso siamo Penu Eh, ultimi Idrei di andare dai rossi? Che non c'è nessuno? Attenzione Attenzione Aspetta che devo battere la ragazzina qua Che è fiera Oh Ok, ammassata Ah, oh, oh, oh Aiuto 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 Ma perché cadono? Perché cadono? Dimmi Ma perché Perché Ma porco due E cadono Ce le hanno fottute Niente Ce le hanno fottute E te che cazzo vuoi? Ma che problemi c'hai? Ok, Lucchi Per me tipo sapevano che dovevamo registrare E ci hanno messo due così in team da soli Oh, eh, vai te, vai te a prenderla Comunque Vado io, eh Guarda i blu quanti ne hanno Undi Eh, sì, va bene Domani Domani li prendo undici Io, eh Io ne ho prese una Eccolo Aspetta Ah, ma ti vedo che hanno due Ok, me la capo qua dietro Sai perché è undici? Sai perché è undici? Non mi ha visto? Non mi ha visto, mi ha visto Vai, muori, muori Ecco, sono morto io, figurati Tipo uno dei blu che ho incontrato Usava uno di quei cheat Ma devastanti, eh, te lo dico Perché Una pecca di questo minigame Che solo cheat Puoi incontrare, basta Eh, in effetti Anche in altri minigame Comunque Eh, ma qua non si può Guarda, i rossi Non c'è nessuno No, ma che cosa fai? Che cosa fa? Che cosa fa? No, c'è sta il nero C'è sta il nero Ma c'è la tipa qua Ma la tipa è fortissima Eh, c'è la spada in ferro Eh, ma ci sono anche lei, eh Eh, le piace la spada di ferro, eh Eh, abbiamo perso Ok, abbiamo perso Abbiamo Ma, ma Passiamo Ragazzi All'ultimo minigame Esatto Che sarà il più bello Ok Ragazzi, siamo nell'ultimo minigame Snake Quindi, adesso che lo spiegherò tutti e due io Do la parola a Just Reason Esattamente Comunque In pratica Questo minigame Come detto prima Si chiama Snake E Ehm Avete presente tipo I giochi Del Nokia vecchio Esatto 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 Sì, avete presente? Ok Sì, sì Ecco, noi dobbiamo appunto fare queste cose belle Esatto Ehm E infatti Dobbiamo finire contro gli altri Ehm L'ultimo che rimane ha vinto Quindi molto easy Vero? Sì Oh my god Cioè, ho fatto quasi un frontale Questo qua è lunghissimo Gli piacciono le cose lunghe Guarda Ma anche tu E non è che sei da meno Bello Non so perché Ma a volte si ferma Poi Prende la velocità No E sei morto No Ma va a far E ha vinto Ragazzi Ha vinto L'arancione Esattamente Comunque Che cosa che è lungo Ehm Boh Siamo giunti a termine di questo Di questa serie di video Di minigame Esatto Esatto Ehm Come al solito Vi invitiamo a mettere tantissimi Mi piace ai nostri video A commentarli E a iscrivervi a A entrambi i canali Noi ci vediamo prossimamente E niente Da Razor è tutto Bye bye Hey people